Le spinte orizzontali su panca sono un ottimo esercizio multiarticolare di spinta che va a stimolare maggiormente il gran pettorale. Ovviamente questo è lo stesso pattern di movimento di una panca piana o di una chest press, ma svolgere questo movimento con i manubri ci dà alcuni vantaggi. Il primo è che non siamo limitati nel range di movimento né dal punto in cui il bilanciere tocca il petto né dalla massima escursione della macchina indietro, quindi potremmo scegliere noi la profondità che ci è più comoda. Un'altra cosa molto interessante di questo esercizio è che svolgendolo con i manubri le due braccia lavorano indipendentemente e qui ci sarà molta più enfasi sulla stabilizzazione del movimento e sulla parte tecnica. Per andare a svolgerlo andremo a recuperare i manubri da terra e appoggiarli sulle ginocchia. Da qui li porteremo altezza delle spalle aiutandoci con una lieve spinta verso l'alto data dalla gamba e a questo punto mantenendo i manubri vicino a noi andremo a sdraiarci sulla panca. Una volta raggiunta questa posizione andremo a creare un piccolo arco cercando di avvicinare le spalle al fianco in questo modo. Una volta raggiunta questa posizione la manterremo per tutto l'esercizio. Da qui le braccia le posizioniamo a 45 gradi circa quindi non troppo chiuse neanche troppo aperte più o meno a metà e adesso andremo a spingere verso l'alto fino a distendere completamente il gomito mantenendo la spalla nella sua posizione quindi stando attenti a non staccare la spalla dalla panca. Invertiremo il movimento e svolgeremo tutto l'esercizio cercando di mantenere sempre l'avambraccio il più possibile verticale e senza rotazioni del gomito durante il movimento. Grazie! Grazie!